ovvero che ho voluto lasciare la libera interpretazione infatti mi piace quando lo presentiamo in pubblico dal vivo è molto interessante sentire le varie opinioni della gente perché ognuno ci vede qualcosa di diverso ma in realtà è ispirato ad un mito greco non lo dico nemmeno perché è molto facile da individuare e ha molte chiavi di lettura ma anche molti indizi per esempio c'è il simbolo sulla porta che è un simbolo della cultura egiziana e poi ci sono alcuni riferimenti alla storia dell'arte dato che io studio storia dell'arte all'università ho voluto fare alcune citazioni di alcuni artisti di alcune opere e ho cercato appunto di dare un'idea onirica di un viaggio nel sogno all'interno di un pensiero di un sogno che queste due anime vivono insieme straordinario sì è un po' interpretabile appunto perché ognuno ci vede qualcosa di diverso no inizialmente ovviamente ho capito a quale mito ti riferisci tu però inizialmente avevo capito invece un'altra cosa di mia libera interpretazione insomma la prima inquadratura fa vedere una ragazza distesa pensavo che quella fosse la morte e poi ovviamente insomma l'altro protagonista fosse il fratello e invece fondamentalmente invece si rifà a quella scelta mitologica di cui parlavi precedentemente invece il vostro ultimo lavoro che insomma sta quasi penso per vedere la luce ovvero Covered Sun di cosa parla è un film perché sarà un film quindi un lungometraggio a tutto tondo un film fantastico giusto? sì è un film fantasy la durata complessiva finale sarà di due ore e appunto come dicevo prima ci stiamo lavorando davvero da tantissimi anni perché è un progetto gigantesco che ha richiesto uno sforzo immenso da parte mia da parte di Erika di Paolo e di tutti gli amici che ci hanno aiutato però porterà grandi soddisfazioni perché è davvero un lavoro fatto con il cuore io ci ho messo tutto me stesso ho messo tutte le mie capacità tutta la mia... tutto quello che riesco a fare io l'ho inserito nel film e tra l'altro io oggi ho visto anche il... questo film parla... scusami ho visto il trailer ovviamente sempre su YouTube devo dire che è veramente ben fatto e già insomma dal trailer qualche cosa si intuisce immagino quando sarà realizzato quindi nella sua globalità sarà un filmone perché veramente anzi vi faccio i complimenti perché i film del genere specialmente sullo sfondo diciamo fantasy in Italia ce li sogniamo quindi complimenti già da questo punto di vista ragazzi grazie c'è una storia particolare che in realtà deriva da un fumetto dato che Elia prima di cimentarsi nel mondo della regia era un fumettista ah quindi un fumettista straordinario quindi ovviamente te la cavi anche con i disegni fai le tavole e tutto il resto immagino esatto sì sì ok ma ti capita di magari creare un disegno o un fumetto e poi cercare di trasferirlo appunto a film o è successo così con Covered Sun? diciamo che prima di mettermi a fare il regista sì io ho sempre disegnato ho disegnato tutta la vita è solo da quando ho conosciuto Erika che ho virato verso il cinema che è comunque una passione che ho sempre avuto e Covered Sun per adesso è l'unica mia opera che ho deciso di trasporre a livello cinematografico ok ok però non so in futuro se riuscirò a convincere Erika a trasporre qualcos'altro hai altro per adesso nel cassetto che un giorno trasformerai appunto in film sì ho svariate idee nel cassetto che teniamo lì pronte per essere realizzate dopo che avremo finito questa epopea chiamata Covered Sun il bello di voi ovviamente parlo sia di Elia ma anche di Erika che tra l'altro come diceva prima proviene dalle belle arti quindi ho studiato all'accademia quindi siete una bellissima coppia ovviamente che insomma si dà da fare su un mondo che è quello del cinema e secondo me veramente potete dare tantissimo per il vostro estro ma soprattutto per la vostra inclinazione e attitudine artistica che non è assolutamente da sottovalutare cioè quando si è artisti secondo me si è artisti veramente a 360 gradi e chi meglio di voi potrà fare delle opere di un certo rilievo grazie mille allora facciamo una cosa ascoltiamoci il primo estratto audio e poi anche con un po' di musica di Covered Sun noi ci ascoltiamo l'estratto audio parlato di Sun posso riavere Ren? ho paura che soffra non posso soffrire non è un essere umano e che cos'è un essere umano? se ti spiego cos'è un essere umano la pianti con queste domande? in principio tutto ciò che vedi non esisteva c'era solo il cristallo il cristallo della vita il quale diede vita a dieci rudra degli esseri titanici corrispondenti a tutti gli elementi presenti in natura un giorno però nacque un nuovo essere diverso dalle altre creature ed infinitamente più piccolo un essere fragile che necessitava di un mondo nel quale vivere i dieci rudra decisero quindi di sacrificarsi unendo i loro corpi grazie alla gemma della fusione con un legame di sangue le avvolsero creando un mondo nel quale potesse vivere Saguna l'ultimo titano grazie a tutti 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 cari ragazzi dell'Elia Rosa Film Production stiamo approfondendo appunto il discorso di Covered Sun tra l'altro il primo estratto che abbiamo ascoltato è stato appunto quello tratto da Sun Sun è il protagonista scritto S-A-N no perché ci sono cascato anch'io su questo discorso qua e il protagonista è stato appunto il protagonista è stato appunto la trama in breve la trama in breve se ce la potete raccontare e vedrai la travasse è rappresenti questapiece della trama fa Douglas ok la trama è un doctrino Pittsburgh la strada e si vedrà nel finale poi se San riuscirà a completare questa sua missione o fallirà già dal trailer come dicevo prima è interessante, quindi figurarsi anche questa trama che mi sembra veramente scritta abbastanza bene un insieme di cose, tra l'altro dobbiamo salutare il nostro carissimo amico Antonio Boso che dice parole sue, testuali disegnano bene entrambi grazie Antonio abbiamo fatto dei lavori anche per lui con gli altri cortometraggi Antonio Boso, troppo forte number one, il mio socio giustamente allora invece vi voglio chiedere quando si spera che vedrà la luce Covered Sun, perché io sono abbastanza curioso allora io attualmente sto lavorando alla parte finale della post produzione del film sto inserendo tutti i suoni all'interno del lungometraggio e penso che nel giro di massimo due mesi dovrei aver finito questo lavoro ok, quindi ci mettiamo il ferro dietro la porta diciamo giugno esatto poi ci sarebbe da aspettare le musiche che sono tutte composte da Carlo Tosini che è un ragazzo bravissimo e sta componendo una colonna sonora che è maestosa è molto più di quanto mi sarei aspettato e se Covered Sun sarà un grandissimo film sarà anche merito di Carlo e della sua musica perché è spettacolare e perciò lo ringrazio tantissimo perfetto e io credo che nel giro di qualche mese due o tre mesi potrebbe essere finalmente pronto straordinario io non vedo l'ora vi ringrazio per essere stati a ospiti qui sul Popbox la scatola dell'arte degli artisti ovviamente due grandi persone parlo di Erika e parlo di Elia per chi li vuol seguire tra un poco lasceranno ovviamente tutti i loro contatti in chat e noi ci ascoltiamo un'altra traccia audio sempre dalla tratta ovviamente dal loro corto Onirio ragazzi no scusate Covered Sun sempre quella oggi non ci sto con la testa vi chiedo scusa e grazie per essere stati ospiti qui su Popbox grazie a voi grazie a voi grazie a voi Non farle vedere il sangue. Rubo i koaku. 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 Rubo i koaku.